La situazione meteorologica sulla nostra regione è ancora governata da una depressione in quota presente sulla Germania. Tra le depressioni lasciarà il posto a un anticiclone nel corso di questo fine settimana con aria più calda in quota. Andando con ordine le previsioni per sabato vedono cielo in genere poco nuvoloso su tutta la regione salvo qualche annuvolamento a bassa quota in alcuni fondovalle del zona montana. Temperature in diminuzione con valori minimi intorno ai 5 gradi o anche sotto sulla pianura associati a qualche brinata e minimi piumiti sulla costa intorno ai 10 gradi. Le massime saliranno sia in pianura che sulla costa intorno ai 15 gradi. Freddo anche nei fondovalle con temperature sotto zero su diversi fondovalle della zona montana poi temperature piumiti in giornata. Il vento sarà di borino di primo mattino sulla costa poi tenderà a venti deboli di direzione variabile. La giornata di domenica invece vedrà un aumento della nuvolosità specialmente per l'aumento di temperatura in quota e quindi per uno strato nuvoloso a quota medio basse avremo quindi cielo in genere nuvoloso dalla costa delle prealpi più variabile sulle alpi in particolare sul tarvisiano non escluso anche su pianura e costa e nella parte orientale nel pomeriggio la possibilità di qualche locale e debole precipitazione. Venti deboli di direzione variabile i temperature in lieve aumentano i valori minimi stazionarie quindi sempre fino a 15 16 gradi nei valori massimi. Farà più caldo invece in montagna in quota con zero termico che sale da 2000 a 2800 metri a fine giornata. Tempo umido anche lunedì e martedì qualche piovigine qualche debole pioggia e temperature in ulteriore aumento soprattutto in quota. E dall'osservatorio meteo dell'ARPA Arturo Pucillo vi saluta